La Germania di Weimar In Germania, nel novembre del 1918, i tedeschi civili e militari erano stanchi e sfiduciati. Si verificarono pertanto rivolte a mutinamenti nell'esercito e nella flotta. Questo aveva reso impossibile la continuazione della guerra, provocando la fuga del Kaiser Guglielmo II e la proclamazione della Repubblica. I socialdemocratici presero pacificamente la guida della Repubblica, ma stinsero anche un accordo con i capi delle forze armate e i partiti moderati. Il loro obiettivo era evitare lo scoppio di una rivoluzione sul modello sovietico. Poco dopo, i socialdemocratici, a Compiègne, firmarono un armistizio ponendo fine alla guerra. In tal modo, le gerarchie militari non vennero ritenute responsabili per aver voluto e poi aver perso la guerra, oltre che per la politica militarista imposta prima del 1914. I generali, infatti, avevano ancora abbastanza forza e abbastanza seguito da poter essere degli utili alleati, in quanto erano in grado di mantenere l'ordine pubblico. Si diffuse così in Germania la convinzione che l'esercito non fosse stato battuto dalle truppe dell'intesa, ma da una mitica pugnalata alla schiena. Cioè, da una congiura ordita da traiettori socialisti o comunisti, di tra i quali si ipotizzava sicuramente la presenza degli ebrei. Ovviamente non c'erano prove concrete, ma queste vignette mostrano quello che era un sentimento comune in Germania nel dopoguerra. Non tutta la sinistra era d'accordo con le decisioni del Partito Socialdemocratico. Molti socialisti, che si erano opposti alla guerra, formarono la Lega di Spartaco, una formazione di ispirazione comunista guidata da Karl Liebnik e da Rosa Luxemburg, che, per quanto critici di alcuni aspetti dell'eliminismo, tentarono una rivoluzione del tipo sovietico. I socialdemocratici al governo, per soffocare gli spartachisti, lasciarono mano libera ai Freie Corps, delle unità paramilitari formate da reduci, politicamente schierate all'estrima destra. Gli spartachisti vennero massacrati, compesi due capi. Da allora ci fu un'ostilità dichiarata fra le due parti della sinistra tedesca, i socialdemocratici e i comunisti. Nel frattempo, l'Assemblea Costituente, che era fuggita nella piccola città di Weimar, elaborò un testo costituzionale reputato perfetto. Esso fu il frutto della sintesi fra socialisti, cattolici e liberali. La Germania divenne una repubblica federale e parlamentare, con un governo guidato da un cancelliere, responsabile davanti al Parlamento, il Reichstag. Il Presidente della Repubblica veniva però eletto direttamente dai cittadini. In condizioni ordinarie aveva un potere di garanzia, ma in caso di emergenza disponeva di poteri straordinari e poteva nominare il governo. La pace di Versailles impose alla Germania la perdita delle colonie, il disarmo forzato, il pagamento di una enorme indennità di guerra. La Germania doveva inoltre accettare la pace come un diktat e riconoscere la responsabilità di aver provocato la guerra. La Germania perse anche alcuni territori come l'Alsazia e la Lorena, e la Poznania, oltre a Danzica e, a causa del corridoio polacco, la Prussia orientale si trovò separata dal resto della Germania. I tedeschi avevano sperato che grazie alla Repubblica avrebbero ottenuto condizioni di pace meno dure di quelle che sarebbero state concesse all'impero Guglielmino. Non era stato così. Questo fece sì che la Repubblica non venisse mai accettata dalla maggior parte degli abitanti e fosse considerata come il simbolo della sconfitta. La destra più estrema riteneva che i socialdemocratici fossero colpevoli della sconfitta. La destra moderata accettò la Repubblica solo in mancanza di meglio. A sinistra, invece, i comunisti non perdonarono mai la settimana di sangue, durante la quale gli spartachisti erano stati massacrati. Sul momento la Germania iniziò a rispettare le clausole del trattato, ma è dato che non che il pagamento delle riparazioni doveva venire solo in oro, la Germania andò incontro ad una massiccia inflazione. Per questo motivo i politici tedeschi chiesero una dilazione e poi sospesero i pagamenti. Per reazione la Francia, nel 1923, invase la Ruhr, una ricca regione industriale. La Germania, priva di esercito, oppose una resistenza puramente passiva. Nel frattempo il paese finì in preda al completo disordine economico. Prima della guerra occorrevano quattro marchi per acquistare un dollaro. Nel 1921 ne servivano 65. A metà del 1923 si passò a 350.000. Mentre alla fine di quell'anno costrero ben 4 miliardi di marchi per avere un dollaro. Questa fortissima inflazione danneggiò i ceti salariati e annientò i risparmi dei ceti medi. Al contrario le aziende videro annullati i debiti e i contratti durante la guerra. L'estrima destra a questo punto approfittò della situazione per tentare alcuni colpi di Stato chiamati i Putsch. Nel 1923 il partito nazionalsocialista, guidato da Hitler, tentò un colpo di Stato che venne però represso. La crisi portò al potere un partito della destra moderata, guidato da Stresemann, che represse i movimenti estremisti sia di destra che di sinistra e riprese a pagare le riparazioni. Nel frattempo una nuova moneta, il Marco Rendita, stabilizzò la situazione economica. La Germania riuscì ad uscire dalla catastrofe economica grazie a due accordi internazionali. In primo luogo un trattato politico ed economico con l'URSS. In secondo luogo un intervento degli Stati Uniti, grazie al cosiddetto piano Devis, seguito dal piano Young. Questi piani prevedevano che l'America prestasse denaro alla Germania, che lo avrebbe usato per far ripartire l'economia e per poter riprendere i pagamenti verso i paesi europei, che così a loro volta avrebbero potuto rimborossare i prestiti ottenuti dagli Stati Uniti. La situazione si stabilizzò anche da un punto di vista diplomatico. Nel 1925, a Locarno, Francia e Germania si accordarono, grazie alla mediazione di Italia e Gran Bretagna. In tal modo i confini fra le grandi potenze, definite a Versailles, vennero riconosciuti volontariamente e non forzatamente dalla Germania. Stresemann aveva ceduto sul confine occidentale, ma non nascondeva le sue ambizioni sull'Europa orientale, anche se pare intendesse puntare solo sulla penetrazione economica. L'ultimo evento positivo degli anni 20 fu l'accordo Brianke-Logue del 1928, con il quale ben 70 paesi al mondo, tra i quali Francia, Gran Bretagna e Germania, rinunciarono alla guerra come strumento per risolvere i problemi e si fidarono alla Società delle Nazioni per la difesa dalle aggressioni. L'anno dopo la Grande Depressione rimise tutto in discussione. La Germania di Weimar conobbe, nonostante la crisi, anche un'eccezionale frittura delle arti e della cultura. La scuola d'arte della Bauhaus lanciò il movimento architettonico del razionalismo e funzionalismo, mentre il cinema espressionista ottenne eccezionali risultati.